Qual è la strada più rapida per completare il primo capitolo di Lorcana? Quali saranno i passaggi da seguire? E a livello economico, quanto sarà richiesto per riuscire nell'impresa? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Finalmente Lorcana ha fatto la sua comparsa definitiva, essendo disponibile in mercato ai più. E da quando il pre-release è stato lanciato, una domanda mi è sempre stata fatta più di tutte. Arconte, farai un video su come completare velocemente l'intera collezione? Sì, e così dopo aver ricevuto i prodotti e ordinato per bene qualsiasi carta all'interno del raccoglitore, ho avuto una panoramica più dettagliata della situazione, riuscendo quindi a muovermi in modo mirato verso l'obiettivo del completamento del set. Ovviamente sto parlando della collezione regolare e non del master set, dove dovrebbero essere presenti, oltre alle carte normali, anche le rispettive controparti foil e tutte le enchanted esistenti. Quindi, parlandovi per esperienza personale, vi riporterò quest'oggi i tre passaggi fondamentali che ho seguito personalmente permettendomi così di completare il regular set di Lorcana. Prima di continuare, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, così crescendo potrò portare sempre più contenuti interessanti e ricercati dedicati allo sconfinato universo dei TCG. In più in descrizione troverete anche i link che vi riporteranno al profilo Instagram, dove pubblicherò storie per aggiornarvi su nuove uscite, molto altro ancora, e alla pagina Facebook. Grazie infinite per il supporto. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quali saranno gli step ideali per completare The First Chapter. Andiamo a dargli un'occhiata. Acquistare i prodotti della linea. Potrà sembrare scontato, ma ciò svolgerà il buon 90% del lavoro. Infatti dopo aver aperto due box, i tre starter deck ed un gift set, la situazione che mi sono ritrovato davanti è stata la seguente. Di 204 carte totali, dopo le varie aperture, sono state esattamente 10 le carte che mancavano all'appello. Quindi dopo aver sistemato il raccoglitore, ho iniziato a fare un giro di chiamate per sapere se qualcun altro appassionato della zona avesse ricevuto i propri articoli, accordandomi con loro in un incontro in fumetteria. Ed è qui che il secondo punto ha avuto luogo. Scambiare i doppioni Questa pratica negli ultimi anni ve lo devo dire lo svolta sempre meno, ma potrà tornare utile all'occorrenza se non si vorrà spendere una somma di denaro eccessiva per recuperare numerosi elementi mancanti alla collezione, limitando così lo sforzo economico privandosi di carte che si troveranno nell'album proprio per assolvere all'unico scopo di essere scambiate per avvicinarsi al completamento del set. Quindi dopo una giornata passata a contrattare, anticipando anche il passaggio successivo che vedremo fra poco che mi ha portato da 10 carte a 7 mancanti, il conto finale che mi separava dal completamento del set è stato di soli tre personaggi, Mickey Mouse Brave Little Taylor, Uncino Capitano della Jolly Roger e Tinkerbell Giant Fairy. E quindi visto in lontananza il traguardo ho deciso di accedere all'ultimo step per abbreviare ulteriormente i tempi. Comprare le singole Per concludere quindi la raccolta mi sono rivolto al mercato secondario e fortunatamente sono stato contattato da un venditore delle mie parti che conosco da tempo, che mi ha fornito le ultime tre carte a dei prezzi davvero molto onesti. Per farvi un paragone non si è scostato di molto dai reali costi comparsi su Car Market. E quindi dopo aver inserito anche l'ultima carta mancante all'interno dell'album ho finalmente completato il primo set di Lorcana dalla 1 alla 204, includendo anche il mosaico di Mickey Mouse, costruendoci attorno una cornice a tema. Ora, di sicuro esisteranno altri modi per riuscire a recuperare ogni singola carta presente nel set The First Chapter, acquistarle tutte singolarmente senza il supporto di prodotti, scambiare carte ad oltranza e così via. E tutti andranno bene. Quello che vi ho descritto nel video è il mio punto di vista, quello che ho fatto personalmente per riuscire a concludere la versione regolare del primo capitolo di Lorcana. Prendete le informazioni descritte in questo video quindi come una base di partenza, sentendovi liberi di cambiare rotta quando e dove vorrete, anche a seconda del budget di cui disporrete. Per tutti i collezionisti dei vari TCG, Lorcana ed il suo primo atto rappresenteranno un ulteriore gioiello da mostrare nella propria raccolta personale, considerando che, come abbiamo già visto, non risulterà eccessivamente complesso recuperare la maggior parte delle carte già solo acquistando i prodotti della linea regolare. L'unico ostacolo a questo punto potrebbe essere proprio la reperibilità, dato che già dal day one diversi sono stati i negozi e gli appassionati a rimanere a bocca asciutta. E mi auguro che con il passare del tempo questo TCG non diventi qualcosa che verta più sul collezionismo spietato piuttosto che sul lato giocato, anche perché la Ravensburger era stata piuttosto chiara al riguardo. Questo sarà un gioco che avvicinerà tutti coloro che non hanno mai toccato un GCC e allo stesso tempo anche i veterani di altre realtà. Sì, ma se non ci sono le carte per giocare, come si fa? L'unica speranza è quella di attendere un flusso abbondante di articoli che permetterà così sia l'abbassamento dei prezzi generali, che già si sta verificando, almeno per le carte singole, sia l'avvicinamento di nuovi giocatori che si sfideranno in battaglie mozzafiato con lo scopo ultimo di raggiungere il tanto agognato ventesimo punto lore. E voi, avete già completato la vostra collezione? E se sì, quale processo avete seguito? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.